Abbiamo dunque visto due metodi, il metodo della massima verosimiglianza e il metodo dei momenti. Vi sono anche altri metodi per calcolare i parametri, uno di questi vi è sicuramente noto è il metodo dei minimi quadrati. In generale il metodo dei minimi quadrati si ottiene andando a considerare un valore misurato facendo la differenza tra il valore misurato con il valore che teoricamente è atteso prendendo il quadrato e sommando su tutti i termini. Questo è lo scarto quadratico, potremmo considerare anche lo scarto quadratico medio se dividiamo per n il numero di elementi che abbiamo. Qui la parte diciamo particolare qui è che non abbiamo, non trattiamo direttamente le misure ma dobbiamo fare un'operazione intermedia sulle misure che sono gli x con i e dobbiamo calcolarci l'empirical cumulative distribution function. Dobbiamo poi una volta che abbiamo calcolato l'espressione che sta sulla destra andare a minimizzarla. Gli ECDF sono quindi dei numeri, una serie di numeri che noi possediamo, sono tutti noti. Sulla destra invece abbiamo un'espressione che è un'espressione analitica che dipende dai parametri e dai numeri che noi abbiamo ottenuto dagli x con i. Andare a minimizzarla come sapete vuol dire andare a, è una funzione di variabili che sono i parametri, quindi andiamo a derivare rispetto ai parametri e poniamo la derivata uguale a zero. Nella soluzione del sistema, che mi dà tante equazioni quanti sono i parametri, ottengo delle soluzioni e queste soluzioni sono ovviamente i parametri che rendono minimo lo scarto quadratico. Nel caso della distribuzione di Gumbel, l'espressione generica di prima si trasforma in questa che vedete disegnata qui. Qui in particolare abbiamo sostituito alla forma della distribuzione di Gumbel la sua espressione x con i meno a diviso b. L'x con i ha il pedice perché questo significa che lì devo mettere un valore della misura, delle n misure che ho a disposizione. Un problema che si pone in questo caso è che l'equazione che ne risulterà sarà un'equazione non lineare, in quanto la parte di esponenziale, cioè l'esponenziale è una funzione trascendente, quindi non facile da usare. Dovrà usare dei metodi numerici, come quello di Euler o della bissezione, o del metodo di Newton-Raphson. Qui la citazione dei due metodi vi rimanda a Wikipedia se volete sapere di che cosa si tratta esattamente. Adesso però andiamo a sviluppare questa formula, andiamo a calcolare effettivamente le derivate e a vedere che cosa si ottiene. Quindi andiamo a fare la derivata fatta rispetto ad a e il problema qui ovviamente è, beh, la derivata è, in questo caso dobbiamo fare la derivata della funzione esponenziale che contiene i parametri. E la derivata della funzione esponenziale è il tutto inalterato per la derivata dell'esponente e poi per la derivata dell'esponente dell'esponente. E quindi la derivata, manca un uguale e manca anche un termine di derivata, sono i termini che vedete segnati in giallo. Così pure andiamo a calcolare le derivate rispetto al coefficiente b e otteniamo un'altra funzione che di nuovo contiene tutto il termine inalterato, l'esponente che è sempre il solito e la derivata rispetto all'esponente dell'esponente. Questi due termini ugualiati e posti uguali a zero mi danno la posizione dei massimi. In questo caso appunto abbiamo detto che dobbiamo usare un metodo numerico per ottenere i risultati. In realtà non siete voi che dovrete implementare il metodo numerico, ma il metodo numerico sarà già implementato nel sistema che noi andiamo ad usare. Cioè si tratterà nella sostanza di dare un solo comando. Però è utile che voi ricordiate che sono questi due metodi. Per esempio questo grafico rappresenta il metodo di Olero della bisezione. Quello che vedete rappresentato è una funzione. In nostro caso è un po' più complicato perché abbiamo due equazioni che dobbiamo risolvere. Quindi abbiamo un sistema di due variabili. Dobbiamo determinare i massimi di una superficie, non di una semplice curva, ma il concetto è lo stesso. Determinare i massimi, abbiamo detto, significa risolvere un'equazione, quindi trovare gli zeri di un'equazione. Ed è questo che è rappresentato in questo grafico. Cioè quindi abbiamo una funzione, questa funzione idealmente è la derivata, una delle derivate del nostro sistema e dobbiamo trovare gli zeri di questa funzione. Come si fa? Beh, se la funzione è continua, come in questo caso, sappiamo che una volta che abbiamo un valore positivo della nostra funzione e un valore negativo della nostra funzione, in pratica un valore positivo di una di queste due funzioni è un valore negativo sempre dello stesso termine, sappiamo che la soluzione deve essere in mezzo. Se deve essere in mezzo, quello che possiamo fare è prendere l'intervallo, in questo caso, fra A1 e B1, suddividerlo in due parti. E per esempio considerare l'intervallo compreso fra A2 e B2, che qui vedete segnato con dei puntini verdi. A questo punto, se siamo fortunati, la nostra soluzione è compresa all'interno. Cioè, di nuovo ottengo F di A2 è positivo, F di B2 è negativo, quindi la soluzione deve essere ancora all'interno. Se invece, per esempio, avessi scelto la posizione F3, entrambi i numeri sono positivi, ma questo semplicemente mi dice che la soluzione è compresa tra A3 e B2. procedo iterativamente in questo modo e convergo facilmente verso una sufficiente approssimazione della nostra, di soluzione del nostro sistema. Il semplice comando che noi daremo nel nostro software non fa altro che implementare questa cosa, questo tipo di procedura. Anzi, in realtà, i nostri comandi potrebbero implementare un altro metodo ancora, che è quello del metodo di Newton-Raphson, che però qui non vi sto ad illustrare, che sono convinto voi avete anche già studiato da qualche parte. solo per rendervi consapevoli della difficoltà che può sorgere nella soluzione di questi sistemi. Lo stesso dicasi anche per il metodo della massima verosimilianza, perché anche nel metodo della massima verosimilianza ho lo stesso tipo di problema, cioè devo risolvere un sistema non lineare. Qual è l'elemento più difficile in realtà del solutore? Qui non è tanto il sistema, l'algoritmo di soluzione, ma è proprio trovare i due elementi A1 e B1 che contengano la soluzione. In generale io non so dove sta la soluzione, devo fare una prima ipotesi su dove si trova. Io potrei però, essendo del tutto ignorante della soluzione, continuare a prendere per esempio due punti positivi. Quindi questo primo elemento di ricerca può essere molto oneroso. In realtà noi potremmo anche dire che la soluzione, sappiamo, abbiamo un altro metodo che non è così complicato, almeno nel caso del specifico di Gumbel. Cioè il metodo dei momenti, come abbiamo visto, si risolve in un sistema che è facilmente risolvibile. Quello mi dà già una prima ipotesi, una guess, come si dice in inglese, su dove sta la soluzione. Quindi usando quei valori posso facilmente, anche qui nel caso, se servisse, determinare dove un presto a poco si trova la soluzione. Basta che dia dei valori attorno a quelli che ho ottenuto con il metodo dei momenti. E sarà quello che poi effettivamente noi faremo. Ci sono dei quesiti, delle domande, delle questioni? Se non ci sono domande, io penso di chiudere qui questa parte.